Ciao a tutti, voglio invitarvi al concerto che nell'ambito della strada del jazz, importantissima manifestazione musicale bolognese mi vedrà partecipe nella giornata di domenica 16 settembre durante il quale condividerò il palco con il grande Enrico Rava in un concerto intitolato Enrico Rava meets Mattia Cigalini saremo accompagnati dai grandi Stefano Bagnoli alla batteria Riccardo Fioravanti il contrabbasso e Andrea Pozzà al pianoforte quest'anno la stella del jazz viene depositata con il nome del grande Charles Mingus e quindi eseguiremo brani sia del repertorio degli standard jazzistici che del grande Mingus ciao, buona musica a tutti